L'ultimo giorno sulla terra, nuovo film approdato al cinema, film francese, da cui non sapevo cosa aspettarmi, non mi ero minimamente informato su questo film, è un film che passerà abbastanza in sordina, tanto è vero che in sala ero da solo, probabilmente a vederlo, vabbè che oggi sono andati giovedì pomeriggio, come sempre, orari strani, però non credo che questo film avrà un gran riscontro di pubblico, infatti mi ha stupito che è arrivato persino al cinema. Ebbene, di che cosa racconta questo filmetto qui? È un fantascientifico post-apocalittico, possiamo definirlo, in cui praticamente, raga, io vi racconto praticamente un minimo di sinossino spoiler, quindi non prendetevela con me se la storia sembra strana, Praticamente all'improvviso sembra apparsa una luna rossa, che sembra che si sia una luna rossa, proprio rossa, rossa incandescente, con un campo magnetico superpotente che la avvolge, sembra che sia apparsa dal nulla sta luna, e sembra che si stia direggendo verso la terra per distruggerla. A quanto pare è stato varato un piano per salvare l'umanità, con una particolare navicella guidata da un astronauta capace, forse l'unico sulla terra capace, a quanto pare, di bucare questo campo elettromagnetico, Però questo astronauta ha preso ed è fuggito, essenzialmente, è sparito dalla circolazione. Ora, ma da una trama del genere, no, da una sinossi del genere, da un soggetto del genere, ma che cazzo ti puoi aspettare? E infatti è venuto fuori un film che non sta né in cielo, tanto per rimanere in tema, né in terra. Partiamo dal contesto, dall'ambientazione del film, ripeto, dovrebbe essere un fantascientifico post-apocalittico, giù di lì, ma il problema è che il film presenta degli elementi che non solo sono decisamente strani, come appunto questa luna rossa che compare dal nulla, e il film non ci dice nulla in merito a questa luna, di qualcosa in più non ce la dice, perché è rossa? Perché ha questo campo elettromagnetico potentissimo? Ma da dove cazzo viene questa luna? È la nostra luna classica, che all'improvviso diventa rossa, o è comparsa? Sì, a quanto pare è comparsa dal nulla, ma perché? Ma dove? Fra l'altro il contesto, proprio l'ambientazione del film, non è precisa, non è ben fissata. Sembra un universo, sembra non un universo, un mondo futuristico, probabilmente potremmo supporre intorno al 2100 dalla tecnologia che utilizzano, però in certi momenti sembra in realtà non molto lontano da noi. E infatti esteticamente il film prende tanti elementi da altri film e li mescola, prende elementi dagli anni 80 ad esempio, rimescola con elementi che sembrano usciti da Mad Max o da Blade Runner 2049. Insomma, anche esteticamente il film ha fatto una mescolazione di generi e ha preso a piene mani da così tanti altri film di fantascienza e non solo, che tu dici, ma che sto a guardare? Che è sto frullato di cose, di idee senza senso? E oltre al contesto che appunto per buona parte non ci viene spiegato, anche i personaggi hanno delle caratteristiche che sembrano abbastanza strane. Noi seguiamo in modo particolare la vicenda, la fuga di questo astronauta a quanto pare, e la seguiamo fino a un certo punto, fino al finale praticamente, dove avviene qualcosa che a mio parere ha ancora meno senso del resto della trama. Però, tutta la fuga di questo personaggio sinceramente non è così interessante, anche perché il personaggio ha una sua caratterizzazione, un suo background, questo è vero, però non è così coinvolgente, così come anche l'attore, non è così bravo da coinvolgerti, da rendere il personaggio coinvolgente, così come anche le dinamiche che questo personaggio crea con altri personaggi, non sono, sono anche quelle molto tirate per i capelli, molto forzate, ma non sono quasi per nulla coinvolgenti. C'è poi una scelta delle musiche molto particolari in questo film, che mi azzarderei a dire tipicamente francese, c'è un romanticismo musicale in questo film, però a volte come scelte sembrano interessanti, le scelte musicale in altre volte sembrano palesemente fuori luogo, fuori contesto, non c'entrano un cazzo con quello che ci sta mostrando. E poi ripeto, anche dal punto di vista narrativo, ma soprattutto estetico, questo film sembra prendere proprio a piene mani da altri film, come ad esempio appunto Mad Max o Blade Runner 2049, ci sono proprio delle scelte estetiche, degli elementi estetici presenti nel film, che sembrano presi pari pari da quei film. E tanto è vero che questo film risulta alla fine inconsistente e privo di una propria identità dal punto di vista estetico. Il regista è questo roman, Coirot, francese o belga, non ricordo esattamente, comunque ha il suo primo lungometraggio e si vede, perché non ha un suo stile, non ha una sua identità registica e stilistica. Questo regista ha cercato di prendere un po' a destra e un po' a sinistra, con degli effetti speciali che a volte, tra l'altro, sono anche abbastanza cringe. Purtroppo anche nel cast non c'è questo granché come presenza, c'è solamente Jean Reno, che è uno degli attori francesi più famosi, lui è famoso per vari film che sono diventati abbastanza iconici a livello internazionale, però ha una parte molto piccola, molto, come dire, di secondo piano all'interno del film, non è tra i principali protagonisti e gli altri attori non hanno questa grande presenza. E, ripeto, il finale è praticamente sulla stessa linea del resto del film, è privo di un vero e proprio senso logico, e quello che avviene non ci viene spiegato per bene. E in un film di fantascienza come questo, in cui solitamente la fantascienza ti chiede un contesto ben spiegato, e quantomeno, non che debba tornare tutto dal punto di vista logico, ma quantomeno che ti venga spiegato allo spettatore il perché di questo e il perché di quest'altro, ebbene, in questo film tutto ciò non c'è. E si pensa a creare romanticismo, a creare, come dire, introspezione, dove in realtà non dovrebbe esserci ben altro. E soprattutto mi ha dato fastidio questa copia copiastra da altri film, dovuta probabilmente all'inesperienza del regista. Quindi, per me questo è un film che non ha senso vedere al cinema, anche perché, ripeto, gli effetti speciali non sono questo granché. Ci sono alcuni momenti, alcune scene, alcune inquadrature suggestive che utilizzano l'ambientazione post-apocalittica per creare qualcosa di effettivamente suggestivo in questo genere qui. Però sono poche. In altri momenti, invece, gli effetti speciali risultano decisamente cringe. Non cringe, ma, non so, molto artigianali. Si vede che è un film che non aveva questo grande budget ed è un film che mi verrebbe da dire che, appunto, mi aspetterei più di vedere su Netflix che al cinema. Infatti, proprio data la qualità discreta, mediocrita di questo film, proprio nel complesso, sia dal punto di vista narrativo, sia dal punto di vista registrico, di messa in scena, è un film che mi aspetterei di vedere su Netflix, su qualche piattaforma di streaming. Non certo al cinema, tantomeno in Italia, dove al cinema non sono passati alcuni film che veramente meritavano e invece è passato su Ultimo Giorno sulla Terra, a cui ho deciso di dare il 5, 4 e mezzo, 5. Ma proprio se voglio valorizzare alcune scene esteticamente accattivanti che sono poche, potrei dargli un 5, ma questo si merita dal punto di vista narrativo, si merita 4 e mezzo, perché veramente non ha senso. E vabbè, io ho finito. Alla prossima, ciao!